bentornati amici andando a portare una rosa mia madre per san valentino guardate che bella è il gesto che conta non la spesa io questa non l'ho pagata tanto ma è per mia madre e gli voglio bene e sarà contenta adesso che gliela sto portando di riceverla voi avete fatto qualcosa alle vostre moglie le vostre fidanzate spero di sì dai forza oggi il san valentino la festa degli innamorati festeggiate tutti quanti insieme alle vostre ragazze le vostre mogli le vostre compagne è passata una bella serata o una bella giornata visto che ormai è già luna quindi già mezza giornata sono andata dai al prossimo video